Nuovo appuntamento con la rubrica in salute, curato dalla dottoressa Elvira Serra che oggi ci parlerà di come prevenire l'infarto e quindi quali sono i campanelli d'allarme, dottoressa? Sarebbe molto lungo parlare di prevenzione perché sicuramente dovremmo citare la familiarità, i fattori di rischio e quindi il sesso maschile, familiarità, ipertensione arteriosa, diabete mellito, obesità, colesterolo, trigliceridi, dovremmo citare anche il fatto di non avere uno stile di vita appropriato Tipo camminare molto, fare attività fisica perché comunque la sedentarietà è un cofattore A quello che mi interessa di più dire questa mattina è che molti mi chiedono che cosa fare quando abbiamo un dolore al petto e come riconoscere i primi sintomi di un infarto Io spesso dico ai miei pazienti che il dolore da infarto del mio cardio si riconosce perché non somiglia a null'altro È un dolore molto caratteristico, molto forte, che ha una precisa sintomatologia e quindi sudorazione fredda, dolore al petto che può essere irradiato al mento, alla gola, al braccio E tutta questa sequela ci deve far pensare soprattutto se non abbiamo fatto un controllo oppure nei giorni precedenti avevamo un dolore intermittente Oppure se abbiamo familiarità dovevamo magari immaginare che andava fatto un controllo un po' prima Ma quello che mi preme dire è che nel momento in cui noi sospettiamo di avere un dolore che non somiglia al solito mal di stomaco Anche se molti mal di stomaco a volte sono stati trascurati ed invece si trattava di infarto del mio cardio È bene recarsi prima possibile ad un pronto soccorso il più vicino che ci sia attrezzato Perché è importantissimo il tempo tra l'inizio dei sintomi e il raggiungimento di un ospedale attrezzato Dove poter fare non solo gli accertamenti ma dove poter fare un'angioplastica primaria oppure per poter fare i trombolitici Nella politica sanitaria fatemi fare questa piccola disgressione per quanto riguarda la patologia in senso stretto Avere la fortuna di avere una struttura attrezzata nel raggiungibile nel più breve tempo possibile può significare la differenza tra la vita e la morte Perché purtroppo il tempo di soccorso che il paziente mette dall'inizio dei sintomi comincia a sentire il dolore Poi magari è avvenuto ogni notte, allora dice no ma sarà lo stomaco, bevo un bicchiere d'acqua, prendo la pillola per lo stomaco Intanto il dolore si intensifica, non passa e quindi si perde già del tempo prezioso Mentre si decide che il nostro dolore è così importante da dover essere indagato presso una struttura E quindi a quel punto ci si mette in macchina e questo si chiama tempo coronarico Cioè io quanto ci metto da casa mia ad arrivare presso l'ospedale attrezzato Quel tempo che io metto magari la strada non è facilmente trafficabile, interrotta in quei giorni c'è molto traffico Quindi questo si allunga i tempi di ospedalizzazione e può compromettere tessuto miocardico Che purtroppo non ritornerà più perché una volta che il tessuto miocardico è stato colpito da infarto Cioè in quella zona l'ossigeno è mancato per molto tempo Poi non è più possibile recuperare quella parte di tessuto che noi abbiamo perso E quindi diciamo che da quel momento in poi anziché aver fatto prevenzione avremo degli ammalati di cuore E allora la domanda che io mi faccio è quanto costa nell'economia sanitaria una persona ammalata di cuore per sempre Ha un costo non solo per la vita ma anche come spesa di tutti E quindi non sarebbe meglio attrezzare gli ospedali quanto più vicini possibile Che abbiano delle strutture in grado di soccorrere i pazienti Altrimenti noi potremmo capitare in una struttura che non ha tutto quello che dovrebbe avere un'ulteriore perdita di tempo E quindi attenzione, l'impegno delle persone è molto importante Nello studio dei fattori di rischio, nel comprendere se sono soggetti che possono avere una patologia del genere E se comincia un dolore che vi sembra diverso dagli altri per intensità, per irradiazione Perché sospettate che non vada via come un semplice mal di stomaco Ebbene recarsi prima possibile Perché il vostro tempo coronarico, il tempo di raggiungimento della struttura è per voi la vostra stessa vita Grazie